Le grandi del calcio italiano ricordano bene questo stadio, è lo stadio Renato Curi di Perugia, ma oggi quel calcio qui è solo un lontano ricordo. Il Perugia è penultimo in classifica nel girone B di prima divisione, ma il suo presidente, Leonardo Covarelli, è già entrato nel Guinness dei Primati. Su questa panchina, domenica prossima, contro il Gallipoli, siederà il terzo allenatore in 30 giorni. L'ultima scommessa si chiama Maurizio Sarri, subentrato al posto di Giovanni Pagliari. Covarelli, pur di strapparlo alla concorrenza, ha fatto tutto di testa sua sfiduciando i più stretti collaboratori, come a suo tempo fece Luciano Gauci, come oggi fa spesso Maurizio Zamparini, con cui Covarelli ha una singolare cosa in comune. Siamo nati tutte e due il 12 giugno, quindi probabilmente il segno zodiacale qualcosa vuol dire. Zamparini è un grande presidente, un presidente che ha fatto tantissimo, che ha tanti risultati. Ovviamente io non è che mi ispiro a Zamparini, cerco di farmi la mia esperienza, che è breve nel calcio, guardando un po' tutti i presidenti. Quali sono le ambizioni di Leonardo Covarelli e del Perugia? Le ambizioni di Leonardo Covarelli sono quelle di portare via da questa categoria il Perugia. Lo dico da presidente, ma anche da tifoso. Metteremo tutte le nostre forze per cercare di portare questa squadra almeno in Serie B, perché è una categoria che al Perugia va già stretta. Con Sarri in panchina, Covarelli vorrebbe costruire un ciclo, riportare il Perugia nel calcio che conta. Il presidente, come il suo illustre predecessore, è disposto a tutto, passando da un ribaltone all'altro, sperando che l'ultimo sia quello giusto. Per Sky Sport 24, Marco Taccucci.